Almeno 12 persone sono state arrestate in Tunisia in relazione al massacro di 38 turisti stranieri avvenuto nel resort di Sus. Le autorità tunisine sono ancora impegnate nella ricerca di altri complici dell'autore del massacro, ucciso dalle forze di sicurezza tunisine dopo l'attacco rivendicato dallo Stato islamico. Lo ha reso noto il ministro per le relazioni con la società civile, annunciando nuove misure di sicurezza. 1300 agenti pattuglieranno armati i luoghi di interesse turistico. È una prima risposta per garantire la sicurezza degli alberghi e delle zone costiere, sia a Sus che in altre località. Mentre sulle spiagge si sta cercando di tornare alla normalità di una vacanza al mare, la polizia turistica è stata dotata di mitra e pattuglia litorale tra i lettini e gli ombrelloni dove si trova ancora qualche turista al sole che non ha voluto rinunciare alla vacanza. A piedi e a cavallo tengono sotto osservazione la zona balneare, mentre armi e mezzi di polizia fanno già parte dello scenario. Grazie.